Come stai Emanuele? La bomba. Solo che mi sono ottercazzo. Con tutti voi che mi state curfiato sul collo, capito? Da stare qua dentro mi sono ottercazzo. Mi sento soffocato. Ecco come mi sento soffocato. Ma che ci fai tu qui? Sono uscito da poco. Da dove? Da l'istituto. Tu madre ha chiesto di essere affidata a te per gli arresti domiciliari. Hai paura di essere responsabile di lei? Non ce la faccio più io. Comunque te qua non ci devi più venire. Questo non è il posto per te. Non risorbo tutto io. Io lo so che risorbi tutto. A me hai rotto il cazzo tutti quanti! Mamma di sta tranquillo! Tu pensi che stiamo giocando? Ma guarda che qui parliamo di giudici, tribunali. E' roba pesante. E lei pensa di essere un'occasione per sua madre? No, io penso di essere suo figlio, che è diverso. E' una cosa più profonda. E' qui dentro di me. Se è arrivato te, è arrivato il sole. Sì, arrivato il sole. Per ecco. E lei è un'occasione per farmi andare per le terrivi, proprio ciò che si può fare. Se è arrivato a te. Grazie a tutti.